Evitata la tragedia ad Eboli, dove un figlio, dopo l'ennesimo litigio con la madre, l'ha minacciata puntandole contro un coltello ed un martello. La donna ha avvertito altri familiari che hanno infermato le forze dell'ordine. Intervenuti, i carabinieri hanno fermato l'uomo e lo hanno fatto desistere dall'aggressione. Gli uomini dell'arma lo hanno dunque fermato e arrestato per atti persecutori. Si tratta di un pluripregiudicato già denunciato in passato per numerosi reati. Sempre ad Eboli, inoltre, a ridosso della statale 19, una Fiat multiple è stata distrutta dalle fiamme, che hanno danneggiato anche due garage e la parte esterna di una palazzina. Sul posto sono giunte due squadre dei vigi del fuoco del cittadino di staccamento. Sull'episodio indagano i carabinieri e non escludono che possa trattarsi di un atto doloso, ma non si lascia nessuna pista. Sono stati individuati e fermati, infine, i vandali che nei giorni scorsi si divertivano a bucare le ruote delle auto in sosta in un parcheggio multipiano a campagna. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale stazione in seguito alle denunzie da parte dei proprietari, che hanno dovuto fare i conti con i danni. Le forze dell'ordine hanno visionato le registrazioni delle videocamere di sorveglianza attive nella struttura per risalire alla loro identità. Si tratta di due giovanissimi del luogo, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni di Salerno, dalla quale sono stati denunciati a piede libero proprio per la loro giovanissima età. Non un preciso scopo quello dei due, se non il divertirsi ai danni degli automobilisti con azioni illegali.